Il campo da Pier, i ragazzi dello staff a parte a media, tutti in campo da Pier. Chi volesse, small e medi, far misurare il cane, Sergio a disposizione, comunque in tutti i casi i cani prenderanno un podio, avranno misurati, quindi chi vuole approfittarne oggi della disponibilità di Sergio per misurare il cane in volo, basta chiederlo al nostro giudice.